Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città-villaggio-rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le terre verdi, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che attrarrà l'attenzione di diversi aspiranti, re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia l'ultradec The Three Brothers del TCG di One Piece. Il prodotto presenterà le artwork dei tre protagonisti presenti in questo tredicesimo capitolo svettare al centro, con il nome del prodotto e i diversi loghi della casa madre sulla parte frontale, il solo titolo con la sigla di appartenenza ed una finestrella in basso, dove verrà raffigurato unicamente Luffy, sia sul lato destro che sinistro, il nome dell'articolo sulla parte superiore e tutte le informazioni legali del caso riportate sul dorso della confezione. Una volta aperta la scatola, al suo interno troverete un deck box realizzato in materiale plastico, dove verranno riportati Luffy, che domina la parte centrale della linguetta di apertura, con il titolo del TCG in questione in basso sulla parte frontale, solamente quest'ultima riportata sulla parte superiore, Sabo raffigurato sul lato sinistro ed Ace su quello destro, e l'iconica bussola, sempre con il nome del GCC e di vari diritti d'autore situati in basso a sinistra sul dorso dell'accessorio. In più ci sarà un divisore incluso all'interno del portamazzo stesso, al quale potrete accederci attraverso, come già accennato, una linguetta a sollevamento fornita di una chiusura a velcro che riprenderà le figure dei protagonisti del prodotto, il deck che sarà composto da 50 carte, dove tra gli elementi Eevee inclusi troverete i tre leader, per l'appunto Sabo rosso giallo, Luffy giallo nero ed Ace giallo blu, assieme ad un assortimento ben pensato di carte che forniranno supporto alle dinamiche dei tre fratelli attraverso delle meccaniche mai viste prima d'ora nel TCG di One Piece, ovvero l'aumento della potenza del leader attraverso la sostituzione delle versioni bambinesche dei protagonisti con le controparti adulte, pronte per essere impiegate in campo direttamente dalla fila delle vite, consentendovi così di sferrare attacchi potentissimi ai danni di chi vi giocherà contro, che non solo dovrà far fronte ad assalti sempre più efferati, ma anche a dover gestire situazioni dove a volte il leader rivale partirà da una base di forza pari a 7000 di minima, un bonus pack dove si potranno trovare tre delle 16 carte alternative che riprenderanno alcuni elementi inclusi nel deck, 10 don con trama foil, ed un poster playmat che, a differenza delle versioni passate totalmente anonime, qui oltre al regolamento avrà una plancia di gioco che riprenderà proprio le art dei fratelli intenti ad entrare in azione. Quindi, dopo aver visto cosa conterrà questo articolo, passiamo ad esaminare alcuni aspetti importanti che lo contraddistingueranno dal suo predecessore. A differenza dei tre capitani, dove sì, c'era un'intenzione chiara di voler fornire al consumatore un prodotto che funzionasse con diverse aggiunte, qui la base c'è ed è più che sufficiente per avere una buona percentuale di carte per completare il deck che si vorrà montare. Ovviamente, tra i tre, il più costoso rimane Luffy, vista anche la presenza di Sabo e Borsalino Nero, che non sono proprio le carte più economiche del gioco. Ecco, ma di certo, per Sabo e soprattutto Ace, il prezzo per recuperare i pezzi singoli di certo calerà drasticamente, soprattutto per quest'ultimo, che non avrà bisogno di elementi ricercati, ma baserà la sua strategia unicamente sui tre fratelli presenti già nello starter, sia versioni adolescenti che adulte. Lo sto studiando per riuscire a portarvi una profile che possa dire la sua in un torneo. E a proposito di torneo, iniziano già a farsi sentire i primi eventi dove il rivoluzionario e cappello di paglia hanno fatto piazzamento, portandosi a casa a volte addirittura la vittoria, cosa accaduta anche con i tre capitani, vedasi lo stesso Luffy e l'orosso viola. Ma nel caso di questo prodotto ci sarà un tier 1.5 che sarà proprio il gommoso, che con l'arrivo di EB-01 e soprattutto P-07 riceverà dei supporti straordinari che daranno del gran filo da torcere all'intero meta. Personalmente, al momento, sto utilizzando per la maggiore Sabo e devo dire che a suonarle le suona di brutto. Luffy lo sto giocando quando voglio variare un po' ed Ace ancora non riesco a montarlo, ma presto di sicuro qualcosa creerò. Per il resto, l'ultra deck dei tre fratelli è un prodotto eccellente, a mio avviso, perché fornisce la base di partenza per qualsiasi archetipo che si vorrà montare. Control, aggro e combo. Il costo indicativo sarà di 55 euro ed al suo interno conterrà, lo ripeto, tutto il necessario per avere una base di partenza eccellente per dare il via alla costruzione di uno dei tre deck rappresentati dagli altrettanti leader. In più, recuperando singolarmente le carte presenti in due pair, spenderete di sicuro molto meno rispetto ad un acquisto doppio. Anche se dipenderà da voi e dalla vostra voglia di andare alla ricerca degli elementi presi singolarmente, in caso non vorrete intraprendere una campagna di questo tipo, acquistatene due e via. Magari con la somma dei valori delle carte nei pacchetti promo, almeno uno dei due ultra ve lo sarete ripagato. Quindi sì, vi consiglio di recuperarlo per avere a disposizione tutto il necessario per prepararvi al meglio alla venuta della nuova tier. Prima di concludere, volevo ringraziare come sempre Luis della fumetteria Loop Games per aver messo a disposizione il prodotto trattato in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò ogni riferimento in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli enfori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio giro vagare. A presto!